Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie davvero a De Camerette per ospitare anche questo dialogo. Confesso previamente che io sono sempre molto in difficoltà nelle introduzioni, è una sorta di eco, di orrore sia per le presentazioni televisive che quelle accademiche, ma in qualche maniera facciamo. Io sono Edoardo Rialti, sono molto contento di essere in dialogo con Vanni Santoni per quello che è, credo forse, la conclusione di un ciclo, perché sono già stati più di uno degli appuntamenti dello scrittore e il critico, che già come titolo sembra una sorta di eco del libro di Dürer e Matti, il giudice e il suo boia, o l'uomo e la sua ombra, la poesia di Mario Luzzi. Tra l'altro in realtà sull'elemento del rapporto tra critico e scrittore come il rapporto tra detective e criminale, in realtà è una lettura interessante e reale, perché consiglio di vedere il film dello stesso regista di Parasite, Memoria di un assassino, che è un corrispettivo coreano del pasticciaccio di Gadda, in cui è molto chiara l'analogia tra il detective come critico e l'assassino come artista, quindi il compito in qualche maniera del critico è quello di ricostruire a posteriori le motivazioni di un gesto misterioso, apparentemente gratuito, quindi inconoscibile o quantomeno complesso. Il dialogo oggi con Vanni è sui suoi romanzi fantasy, quindi Terra ignota, Risveglio e Le Figlie del Rito, e poi L'impero del sogno, anche se credo che già L'impero del sogno a sua volta giustifichi il fatto che dialogheremo anche della stanza profonda. Io mi limito a dire alcune cose di introduzione, come appunto mia reazione come lettore e come critico ai romanzi di Vanni, che recensì, insomma, già quando uscirono, furono di fatto come il libro di Lancillotto e Ginevra di Dante, Galeotto, nel senso che furono anche l'occasione a partire dalla quale ci siamo conosciuti per poi poterne parlare assieme. Nel senso che già una volta, scrivendo dei romanzi di Vanni, dissi che, utilizzando un'espressione di Jean Guitton, Jean Guitton consigliava sempre, quando si analizza l'opera di un autore, di provare tentativamente a identificare una frase, un titolo, un'espressione dell'autore stesso come rappresentativo di un orizzonte poetico, di una sorta di cornice di sensibilità generale. E io, appunto, proprio in occasione dei fratelli Michelangelo, in quel caso dissi che, in qualche modo, tutti i romanzi di Vanni Santoni sono delle stanze profonde, no? Sono, appunto, possono essere determinate sottoculture, oppure può essere, appunto, l'esperienza psichedelica, la Fritecno, i Rave, oppure il Novecento, come nel mio caso era stata la lettura dei fratelli Michelangelo, o il fantasy, il fantastico gioco di ruolo. Anche i romanzi di Terra ignota e l'impero del sogno sono a loro volta una stanza profonda, nel senso che non sono soltanto dei libri fantasy, ma, e questo è molto interessante, ovviamente sono anche dei libri sul fantasy. Qualche giorno fa, nel dialogo che Vanni hai avuto con Raoul Bruni, che saluto, bisogna sempre omaggiare gli altri critici, soprattutto se sono più bravi di te, Raoul ha detto una cosa molto bella, ha detto che, in qualche modo, i tuoi romanzi sono una sorta di cortocircuito tra minimalismo e massimalismo. Io l'ho raccontato in più di un'occasione, perché ci sono delle immagini che, per qualcun altro, possono risultare financo banali, ma che, per la persona, possono invece portare un significato ulteriore, che sono, io ricorderò per sempre, la prima intervista, io e Vanni ci siamo conosciuti proprio a partire da Terra ignota, poi ho lesso il romanzo e abbiamo fatto una lunga intervista. E questa intervista, che fu un'intervista vasta, che copriva tanti temi, però era un'intervista che, appunto, comprendeva Dumesil, Eliade, Tolkien, Lewis, era un momento nel quale si provava un po' a come fare il punto di quanto di tutto questo convergeva nell'esperienza narrativa all'epoca ancora del primo romanzo, addirittura, e poi il passaggio con, appunto, le figlie del rito, l'abbiamo fatta a Firenze, al mercato, a Sant'Ambrogio, dopo aver mangiato un panino con il lampredotto, io mi ricorderò sempre che, appunto, c'era il lampredottario, e disse, daglielo un panino allo scrittore, con l'H finale, anche soltanto dicendolo. E io mi ricordo molto bene, in quel momento, di essermi visto da fuori, e aver detto, ma chi mi avrebbe mai detto, che mi sarei trovato a parlare di Hobbit, di Michael Moorcock, sedendo sui gradini di Sant'Ambrogio, davanti all'ampredottario. Perché dico tutto questo? Perché questi, che potrebbero sembrare dei mondi assolutamente non sovrapponibili, la scrittura radicata in una regione addirittura immaginativa e linguistica, e invece la letteratura fantastica, addirittura la letteratura cavalleresca, l'eroic fantasy, anche in questo caso andavano a fare un cortocircuito. Quindi non c'è soltanto il cortocircuito tra massimalismo e minimalismo, ma viene da dire che anche qui c'è un cortocircuito molto significativo. Dico tutto questo per poi farti la prima domanda, per dire che cosa? Che i romanzi di Vanni sono stati importanti per la storia del fantasy italiano. La prima prova lo dà il fatto che è vero che, paradossalmente, anche nelle classifiche di qualità, l'hai ricordato te, molti dei tuoi lettori, anche fra i critici, hanno più facilmente ricordato altre opere rispetto a quelle, e questo è significativo perché testimonia come ancora oggi, a sette anni di distanza dal 2013, tante cose siano cambiate. Basta vedere l'attenzione che si ha nei confronti del cosiddetto sconcertante, del weird, cosa che probabilmente dieci anni fa sarebbe stata sicuramente diversa. il fantasy puro come genere ancora oggi incontra una duplice tipo di resistenza, che poi magari andremo ad analizzare. Una resistenza, per così dire, della critica accademica, della critica alta, della critica laureata, che tende ancora a considerarlo in parte un genere scafistico, o addirittura semplicemente possibile fare da noi, ma dall'altra parte c'è anche un altro tipo pericoloso di ghettizzazione, che è spesso anche la ghettizzazione interna, che è una cosa che può capitare molto faciliate culture e ha determinati universi immaginativi, ma in realtà il libro di Vanni è stato molto importante perché non soltanto ha generato dibattito, in realtà, ma ha anche generato, e questo tema è molto importante, critica già soltanto come oggetto di discussione, perché dopo il primo anno, dopo l'uscita di Terra Ignota, già con le figlie del rito, il dibattito che ha accompagnato gli altri romanzi di Vanni è poi sfociato in quello che fu, quello che poi fu chiamato il simile del potere, che poi fu una raccolta di saggi, di scrittori e studiosi appassionati di fantastico in Italia, che poi appunto diventò il volumetto per FQ di tutti i mondi possibili. E questo è significativo, nel senso che in realtà il libro stesso di Vanni ha permesso un discorso che in qualche minera lo comprende e lo supera. L'ultima cosa che voglio dire, prima di farti una domanda, è questa, cioè che, come accennavo prima, questi romanzi di Vanni sono dei romanzi che prendono di petto l'eroic fantasy, la quest, sono una storia di fanciulle che vengono strappate da una piccola condizione, non so come dire, rurale, che vengono gettate in un contesto infinitamente più grande e più devastante, con la progressiva scoperta in due prospettive molto altre di un destino regale, anzi addirittura di un destino divino. Mentre invece l'impero del sogno, se si vuole, è un'altra modalità del mondo fantastico che è quella dell'uomo normale a cui è chiesto di accompagnare un destino assolutamente straordinario, è appunto il personaggio del Mella che era già presente negli interessi in comune dove addirittura spariva e viene data qui una giustificazione alla sua sparizione raccontando la storia di una storia di Novello San Giuseppe si potrebbe dire in qualche modo, di padre putativo di una bambina dal destino glorioso. La cosa interessante è per chi conosce appunto la letteratura fantastica italiana è che la letteratura fantastica italiana ha vissuto un doppio problema. Il primo problema è da un certo punto di vista una sorta come di impossibilità a priori a realizzarsi. Materia di Bretagna sembra ormai quasi un marchio come dei vini, Doc, no? Made in Chianti. Nel senso che si pensa che siccome i grandi fantasy vengono da quel mondo se te non fai un fantasy di cui i protagonisti si chiamano John e non so come dire e Emy non funziona se lo chiami Cloridano o Agiulfo quando invece ben sappiamo che nel 500 il fantasy era un genere italiano. L'altro problema e poi qui ti lascio la parola con una domanda è che c'è stato un filone di fantastico per così dire canonico che è ad esempio il fantasy il fantastico alla Italo Calvino quindi il fantastico in qualche maniera in cui lo stesso Calvino è stato ridotto perché è una lettura sbagliata di Calvino stesso a gioco intellettuale cerebrale che si guarda da fuori che scompone i meccanismi e il libro il romanzo di Vanni prende in pieno petto questa cosa perché leggo addirittura fin dalla prima pagina di Risveglio c'è una guerriera un cavaliere che avanza e Vanni dice nel passo del suo cavallo e nella linea del suo sguardo erano ogni orizzonte e strada e il termine è l'inizio di tutte le storie lei era ogni cavaliere ed eroe uomo d'arme ed era ogni viaggiatore vagabondo e folle che percorresse la linea dal centro al fuori e ogni donna uomo animale o cosa che portasse lontano dal pericolo un neonato dal grande destino per chi conosce le fiabe italiane di Italo Calvino nella prefazione alle fiabe italiane Calvino dice che le fiabe sono interessanti proprio come catalogo di ogni destino possibile quindi è evidente in qualche modo che non so se questa era una citazione implicita o esplicita però te Vanni hai voluto prendere di petto tutto questo e traghettarlo e supertarlo per cui la domanda che però ti voglio fare è questa tu hai fatto dei fantasy abbastanza avanti nella tua produzione quindi in qualche modo però in una posizione che è diversa sia da chi ha sempre scritto fantasy quindi ha iniziato come autore fantasy penso a Martin alla J.K. Rowling per esempio e poi magari come la Rowling ha voluto invece scrivere dei romanzi di ambientazione realistica ma anche da chi come Ijiguro ha iniziato o McEwan per tanto tempo a scrivere romanzi di ambientazione realistica contemporanea e poi ha scritto dei romanzi di ambientazione fantastica perché in realtà noi sappiamo bene che c'è sempre stato il fantasy nel tuo orizzonte e nel tuo immaginario quindi la domanda che ti voglio fare è quanto fantasy c'era già nella scrittura che poi ti ha portato a terra ignota? Allora salve a tutti ciao Edo grazie per essere qua e mi fa estremamente piacere essere di nuovo appunto a distanza di sette anni a parlare di terra ignota e per quanto riguarda l'autore e il critico in realtà è importantissimo farlo perché rende un po' più intelligente l'autore ad esempio guardando l'altro film Memorie di un omicidio come si chiama in italiano del regista di Parasa e ti avevo pensato a Pacciani mentre tu hai pensato a Gadda e adesso anche io potrò dire di aver pensato a Gadda e quindi questo incontro è già stato molto utile per l'autore e no è vero che Edoardo e io ci siamo conosciuti proprio grazie a terra ignota e grazie nella sua attenzione per il fatto che usciva un fantasy italiano ed è stato importante molto importante perché di fatto ha permesso a quel libro di avere subito una sponda e un commento autorevole di un certo livello di qualcuno che il fantasy lo conoscesse questo sembra scontato non lo è perché quello che hai detto è assolutamente vero ora sul perché il fantasy in Italia sia stato per molto tempo negletto molto si è detto e scritto anche noi stessi c'entra un giudizio perentorio di Benedetto Croce c'entra l'assenza nell'accademia so che te ami quella citazione immaginaria un po' alla Borges in cui Benedetto Croce dice le fatine sono tutte azzate quindi questo è il sublime della letteratura potenziale però sappiamo che Croce condizionò molto tutta l'accademia in senso antifantastico non ci furono in Italia figure paragonabili a lui su a Tolkien non solo da un punto di vista autoriale ma anche dal punto di vista dell'influenza accademica loro erano professori di Oxford e Cambridge e quindi potevano come dire perorare la loro causa attraverso studi tesi convegni e quant'altro e per certi versi in Italia è mancato anche e benché ci siano dei piccoli esempi un grande narratore popolare emerso dai ranghi magari dell'underground e poi riscoperto come genio d'accordo un Lovecraft o un Dick in Italia non ci sono questo ha fatto sì che si innescassero determinati processi poi molto pertinaci nel mantenere vivo il il pregiudizio e noi abbiamo proprio a partire dall'interessamento di Edoardo fatto un certo tipo di lavoro quello di provare appunto a parlare dei fantasy in un certo modo che è sfociato anche in un libro di saggi che credo sia anch'io sia sia importante di tutti i mondi possibili anzitutto perché non tanto perché i ricontenuti in sé che pure sono buoni proprio perché non esisteva qualcosa del genere cioè in Italia un esempio lampante si può vedere con le riviste e mi è capitato di parlarne con Fantoni su Nerdcore l'altro giorno si parlava della scrittura non si insegna e abbiamo notato che a fronte di un mondo fertilissimo di riviste letterarie dedicate a letteratura realistica sia di quelle che pubblicano racconti critica o quant'altro minima morale le cose indiscreto ne potremmo citare davvero diverse decine non c'è una sola rivista che pubblichi regolarmente critica strutturata o testi di speculative fiction in Italia e questo mi sembra già indicativo di una mancanza e quindi io sono molto grato a Edo per questo interessamento a terra ignota che ha sempre avuto e anche per il fatto che abbiamo potuto innescare un dibattito non solo tra noi ma anche con altri autori e critici che ci ha permesso un po' di sfrondare diversi diversi pregiudizi perché poi dopo pian piano le barriere si rompono quando siamo stati ospiti di Loredana Lipperini al salone a parlare ad esempio del trono di spade abbiamo visto che in gran parte del pubblico le barriere si sono già rotte d'accordo conta solo la qualità altrove invece c'è un po' più di strada di strada da fare ora è chiaro che quello che io volevo fare con terra ignota peraltro è la prima il primo autore critico che faccio da casa quindi li posso mostrare in tutta la loro gloria di librozzi fantasy io voglio li lo faccio vedere non per non tanto per pubblicità ma proprio perché io chiesi a Mondadori a proposito del trono di spade questa l'ha fatta la stessa illustratrice degli stemmi delle varie case dei Game of Thrones però io chiesi a Mondadori di avere una veste molto fantasy ok perché loro vedendo che io avevo un profilo da autore noto nel realismo volevano fare una cosa un pochino più come dire minimale e ricercatina no io ho detto no no io voglio una bella tamarrata con un bel simbolo di bronzo così perché perché volevo appunto fare un un'affermazione innanzitutto cioè dire che a differenza di quello che ha fatto Isshiguro che non c'è niente da vergognarsi nel fare un fantasy questo è un fantasy ci sono dei bambini dei che si pigliano a spadate ci sono dei cavalieri che vengono sbudellati ci sono dei sacrifici delle torture e degli esseri giganteschi che sorgono in un tributo di fiamme per D&G questo è un fantasy e intendo dirlo fin da fin dalle fin dalla fin dalla fin dalla veste d'accordo addirittura pensa che c'era una tale perplessità anche negli ambienti editoriali che inizialmente mi venne suggerito di dare un pseudonimo questo ragazzi se non è indicativo questo cioè quasi che dice ma poi tanto lo puoi dire che sei te il che è paradossale se ci pensi no perché se lo posso dire posso usare il mio no e veniva visto questo è il pregiudizio del fantasy che si combina con una certa idea del marketing applicato all'editoria no in cui l'autore e la sua opera devono essere un unicum città non è necessariamente vista bene perché vai in un comparto commerciale differente insomma alla fine si ottenne questa diciamo compromesso dell'HG che è già un po' buffo anche se il riferimento è nobile perché è a morselle di dissipazio HG uno dei nostri meno compresi autori anzi completamente incompreso visto che si è ucciso tutti i suoi libri inediti che poi è rivalutato ampiamente e forse snobbato dall'editoria ai suoi tempi anche per il suo continuo ibridare con il fantastico una cosa per cui la narrativa letteraria ci metto tutte le virgolette che puoi immaginare italiana non era non era pronta però io voglio questo proprio per per fare un'affermazione poi quello che si fa all'interno è un po' diverso nel senso che il primo terra ignota è una sorta di iper gioco letterario in cui si cerca di portare dentro tutti gli archetipi tutti i filoni del canone fantastico mentre il secondo terra ignota è una sorta di vortice imbuto in cui li faccio esplodere tutti uno dopo l'altro il le città invisibili hai fatto bene a chiamarle in causa perché come sai e come sa chi lo ha letto quando a un certo punto viene descritta la calata dei cavalieri neri del cerchio d'acciaio io avevo in mente una tavola rotonda all'inverso no? dei cavalieri della tavola rotonda che si erano tramutati in una sorta di SS medievali no? in un ordine nero dedito al male però avevo anche in mente dei riferimenti più pop ad esempio il film La Chiesa che è una bella trashata diciamocelo ma all'inizio la scena iniziale in cui dei simil teutonici sterminano un villaggio ha una grande potenza evocativa intanto è che non mi è più andata via dagli occhi anzi volevo anch'io creare dei cavalieri con ilmi integrali e visiera a croce che sterminavano lo sterminabile e sono andato a fargli fra le tante cose che sono andati a sterminare una sono proprio le città invisibili che vengono distrutte e rase al suolo cioè le città del territorio che loro a un certo punto invadono e distruggono sono hanno i nomi e l'aspetto delle città invisibili questo l'ho fatto proprio per fare un piccolo è chiaramente un gioco letterario però anche una piccola affermazione del tipo ok smettiamola di credere che il fantastico va bene soltanto se ha una prima faccia speculativa e se queste città invisibili esistono bene allora possono arrivare dei cavalieri neri a distruggerli ok e torniamo al gusto dell'avventura perché appunto se si va al nostro reale filone di cui peraltro Calvino era anche studioso raffinato Ariosto è chiaro che ha un livello di profondità enorme se uno sa andare a cercarlo a guardar dentro ok ma innanzitutto sono armi avventure amori inevitabilmente perché è chiaro che il fantasy è anche e forse soprattutto prendendo le categorie ad esempio di Todorov questo d'accordo si sa che forse la Divina Commedia non è non può essere pienamente usata fantasy perché la dimensione allegorica è superiore al Sense of Wonder che pure è abbondante perché sono arrivato a fare questo beh io penso che fosse per via di un debito nei confronti del fantasy di un grande debito che non era tanto etterario perché io ovviamente ero come tutte le persone avvedute un grandissimo fan del Signore degli Anelli ma era un libro che un po' mi intimidiva quel famoso discorso della montagna ovvero quando si scrive fantasy c'è questo enorme monte costituito dall'opera di Tolkien che te puoi provare a scalare a girare puoi provare a creare con la sabbia un piccolo monte che gli assomigli però in ogni caso ne devi ne devi tenere conto e già questo mi scoraggiava abbastanza probabilmente poi avendo fatto tanti giochi di ruolo e quindi scritto una quantità innumerevole di ambientazioni fantasy e il mio debito con Tolkien credevo di averle estinto lì quindi erano diventate un po' il fantasy lo facevo nei giochi e il realismo lo facevo nei libri in realtà poi ho capito che non era così che c'era qualcosa nella mia formazione che non riguardava soltanto la letteratura ma anche gli altri gli altri media a cui io dovevo molto principalmente citerei un film il Conor del Barbaro di John Milius opera anch'essa sottovalutatissima per un doppio pregiudizio quello contro il fantasy e quello contro il cinema d'azione muscolare degli anni 80 quindi chiaramente quando ti viene in mente Schwarzenegger con il suo accento austriaco che decapita qualcuno mi immagino un po' diverso da ciò che normalmente colleghiamo al grande cinema d'accordo e invece si tratta di un'opera molto importante forse tuttora direi si può affermare senza grossi problemi che sia il più importante film fantasy fatto finora ci metterei anche l'Excalibur di Burman che però ce ne ha di tutti e inoltre è sceneggiato da Oliver Stone con sorprendenti similitudini di un'altra sua sceneggiatura quella di Apocalypse Now film che invece avendo un'ambientazione guerresca e politica al Vietnam viene preso assolutamente sul serio e inoltre è ovviamente tratto da Conrad e non dai racconti di Conor del Barbaro quindi ci sono proprio delle genealogie che fanno sì che Apocalypse Now si prenda molto più sul serio al di là del fatto che poi c'è anche una superiorità realizzativa però se si vanno a analizzare le storyline e gli elementi simbolici nonché addirittura il finale in cui la decapitazione di Tulsa Doom e quella di Kurz sono identiche d'accordo compresa la scenografia ci si rende conto che invece siamo di fronte a qualcos'altro Conan per me è fondamentale il film preferito di sempre è un altro debito importantissimo di cui non mi libererò mai probabilmente è quello con Berserk di Kentaro Miura a un fumetto fantasy giapponese che mi delizia soprattutto nella sua metaletterietà assoluta cioè dentro a Berserk c'è tutto e però attua una sintesi così totale che diventa una cosa completamente nuova e anche lì andava usato e poi tanti appunto giochi di ruolo videogiochi c'era qualcosa da estinguere e con questi libri credo di averlo fatto almeno per quanto riguarda me stesso poi però ho dovuto fare un terzo libro e l'impero del sogno per collegarli al resto perché se no erano un po' un satellite avulso e quindi ho fatto un libro che aveva un piede nella realtà e un piede fuori anche il sogno quale miglior strumento per stare in quella zona intersezionale e così li ho riportati un po' a casa si potrebbe dire certo beh guarda dico due cose poi ti chiedo un'altra faccio un paio di domande la prima è che rispetto al rapporto dell'Italia con la letteratura fantastica un elemento ce ne sono tanti è sicuramente il tipo specifico di romanticismo che noi abbiamo avuto cioè il nostro è romanticismo che ha da una parte a ruolo nel romanticismo uno che romantico non era come Leopardi che Leopardi non era un romantico cioè appunto sempre appunto citando appunto Raul Bruni che lo conosce lo sa benissimo cioè che Leopardi in realtà ha delle obiezioni molto forti ha tanti elementi del romanticismo negli anni nei quali lui pure scrive e l'altro è ovviamente invece il nostro vero grande autore romantico che è Manzoni che nei confronti del fantastico come ricordò Mazzagalanti nel dibattito su Weird aveva scritto una lettera sprezzante parlando di questo guazzabuglio nordico che veniva dal nord Europa di streghe calderoni incantesimi sappiamo della diffidenza fortissima di Manzoni ad esempio nei confronti di Tasso che in realtà è se in Ariosto c'è un elemento di briosa metaletterarietà Tasso rimane nel Cinquecento io per chi ci ascoltasse lo consiglio tantissimo cioè i discorsi dell'arte poetica e del poema eroico sono un saggio di teoria del fantasy che non è stato superato fino ai dibattiti di Coleridge World del pieno romanticismo inglese cioè il Cinquecento italiano era consapevole di una serie di problemi come quelli che anche tu un po' accennavi cioè ad esempio il fatto che Tasso diceva non si può fare un fantastico di qualcosa il problema di quanto devi credere al fantastico cioè già Dante ovviamente credeva a Lucifero in una maniera molto diversa nella quale lui credeva ad Artù Artù c'è un medioevo del medioevo già Artù era una sistemazione era un immaginario fantastico irraggiungibile questo mi permette di dirti di farti questa domanda cioè riparto proprio da Dante e dal fatto che già Dante critico letterario qual è nel De Vulgaria Eloquenzia quando parla dei generi letterari parla delle regis Artù i zambage spulcerrime le meravigliose peregrinazioni di re Artù e dei suoi cavalieri e le definisce appunto ambage spulcerrime quindi c'è un giudizio qualitativo altissimo da parte del padre fondatore della letteratura italiana cioè le avventure di re Artù proprio i cavalieri erranti sono bellissimi e quando lui fa parlare Paolo e Francesca nel Quinto dell'Inferno che sono la classe colta media italiana che ha una storia d'amore che è come in possessione della Bayat cioè te legge una storia e ti immedesimi loro si immedesimano in Lancillotto e Ginevra noi leggiavamo un giorno per diletto questo è un'affermazione a sua volta meta letteraria molto importante già Dante sta dicendo che i fantasy si leggono per diletto anzitutto per piacere il meraviglioso piace è una frase che deriva dalla poetica di Aristotele quindi dal primo professore della storia della letteratura occidentale la mente come lo lo chiamava in maniera anche un po' infastidita Platone quando se lo trovava in classe e in realtà tutto questo mi permette di collegarmi ancora una volta a una cosa che ti ha detto l'altro giorno avete detto l'altro giorno con Raul Bruni quando avete parlato di muro di casse tu hai distinto come tre gradi di accostamento alla cultura della fritecno cioè l'edonismo il politico e il mistico d'accordo? questa cosa mi è sembrata molto interessante ascoltandoti perché ho detto in realtà sono tre elementi che sono immensamente presenti nel rapporto col fantasy e che mi sembra che leggano molto bene anche i tuoi stessi testi c'è ovviamente un primo elemento di piacere dell'avventura e tanti elementi che sono presenti all'interno della tua narrazione anche dal punto di vista stilistico si rifanno ai videogiochi si rifanno ai fumetti si rifanno ai giochi di ruolo a un certo a un certo modo di appunto di presentare un mondo in cui il fantastico piace perché è una delle modalità che misteriosamente in cui a noi piace e immerge non c'è nessun altro modo per poterlo spiegare ma in tutto questo c'è sicuramente un elemento politico perché i romanzi di terra ignota si legano hanno un elemento molto forte che è quello se te vuoi di una conclusione che è una sorta di di inno a una sorta di ritorno a un'anarchia edenica va bene e e questo a sua volta poi è molto presente anche nell'impero del sogno perché ne abbiamo parlato anche quando uscì il libro se Tolkien aveva detto che il fantasy non è la fuga del disertore ma la fuga del prigioniero da una gabbia angusta in qualche modo tu stesso l'hai detto premendo come l'acceleratore il tuo libro in realtà è anche un elogio della diserzione in un certo senso quindi è come un premere l'acceleratore in quel ulteriormente ma e ovviamente questi due gravi l'edonistico il politico preludono e in qualche modo a loro volta insomma portano poi sulla soglia del mistico che a sua volta è un tema così importante per tutta la tua scrittura perché dico tutto questo perché voglio dire due cose la prima è che paradossalmente oggi se la fantascienza sembra estremamente in grado di raccontare dove siamo la fantascienza vive da un certo punto di vista degli elementi forti di impasse cioè se è in grado di raccontare il mondo anzi a volte sembra in questo ultimo anno così doloroso che abbiamo vissuto addirittura un passo indietro rispetto alle circostanze noi stiamo vivendo in una distopia stiamo vivendo in tempi fantascientifici e il fantastico è stato per tanto tempo accusato di essere una lettura reazionaria che tornava indietro che elogiava il buon tempo antico le armature i mulini i campi ci si rende conto che paradossalmente alcuni dei suggerimenti più radicali su come immaginare il presente e il futuro vengono proprio dalla letteratura fantastica e non dalla letteratura fantascientifica questo in realtà è sempre stato così perché il fantastico più attentamente letto basti pensare anche al signore degli anelli racconta costantemente il dopo l'aftermath lo stesso Martin a sua volta è le opere del trono di spade che oggi non so come dire sembrano veramente scritte oggi chi avrebbe immaginato nel 92 quando Martin ha scritto il trono di spade per la prima volta 92-93 che uno degli immensi temi di 20-30 anni dopo sarebbe stato proprio un mondo di muri e la questione di far entrare chi far entrare chi dice no difendiamo questi nostri confini e invece l'intelligenza dei veri leader all'interno dell'opera di Martin che sono in grado di non vedere più le opposizioni binarie del mondo antico e dire guardate che sta arrivando una minaccia che non guarda in faccia a nessuno e dobbiamo tutti concepirci dalla stessa parte tutto questo lo dico perché ti volevo fare una domanda sulla politica nei tuoi la politica nei tuoi fantasy perché questo fatto che il fantastico è in grado di immaginare un altro modo di vivere la convivenza di vivere in questo mondo è a sua volta antichissimo io faccio sempre il paragone lo spiego così se voi guardate Thelma e Louise Thelma e Louise termina con il fatto che non è possibile per loro per le due protagoniste il mondo contemporaneo è un mondo chiuso il mondo degli uomini dei maschi dei poliziotti mette solo il lancio nel burrone se qualcuno ha letto le baccanti di Euripide sa che le baccanti di Euripide hanno una scena praticamente identica in cui ci sono delle donne che sono andate contro le regole che vengono accerchiate da un gruppo di uomini e le baccanti si girano e li massacrano tutti e li fanno tutti a pezzi questo è significativo perché secondo me il fantastico da sempre è stato in grado di investigare delle possibilità di azione nel reale ti volevo chiedere quanto per te questo tema era esplicitamente presente quando hai scritto i libri e ti faccio una domanda obiezione se te vuoi che è questa e poi mi taccio cioè Alderine quando traduce l'antigone e l'edipo re dice una cosa molto interessante cioè dice che il tema fondamentale delle tragedie è che l'uomo il mortale quando incontra gli dèi la forma umana viene spezzata e irrimediabilmente distrutta non se ne esce più in qualche modo mi sembra un tema che dialoga anche con i due esiti che te prospetti all'interno di questi tre romanzi perché questi tuoi romanzi da una parte o raccontano il risveglio di dei che alla fine arrivano addirittura a sognare un mondo senza 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 leggi senza dei e senza uomini è la fine delle figlie del rito se lo se lo cito correttamente oppure se racconti dei tragitti umani come quello del Mella devi raccontare alla fine il fatto che anche lì l'umano custode o compagno del divino l'unica cosa che può fare è tirarsi fuori dalla realtà viene spezzato va alla fine del primo libro di terra ignota a sua volta vive un sacrificio accompagnando il divino che lo porta alla distruzione oppure addirittura in questo caso nel caso del Mella non si torna nella realtà la realtà è no è è è rigettabile va scacciata la frase di Mella tutta la realtà è sopravvalutata è appunto come l'ultimo grande gesto di coraggio sacrificale del personaggio quindi te vedi solo queste due possibilità in ritorno a una anarchia a un'anarchia divina o al fatto che gli uomini possono accompagnare il divino e poi si devono tirare fuori dal reale beh grandi punti e grandi temi beh sicuramente è vero che il finale delle figlie del rito quindi del blocco terra ignota e con Ailis che una volta diciamo avvocati a sé tutti i poteri delle varie figlie del rito e quindi diventata di fatto la nuova imperatrice decide di creare un mondo senza dei né uomini c'ha un sapore anarcho-ecologista il problema è però che l'approccio appunto anarcho-ecologista c'ha un limite il fatto appunto di non tener pienamente conto dell'esperienza umana cioè è una visione che io condivido abbastanza ma che trovo riduttiva d'accordo perché invece noi siamo noi siamo e siamo qui a parlare e per quanto l'uomo sia connaturatamente legato al male è anche naturalmente tendente al bene come diceva Simone Weil d'accordo c'è qualcosa in me che si aspetta che mi si faccia del bene e non del male e questo qualcosa è sacro e questa visione non ne tiene conto perché ovviamente un ritorno allo stato di natura porta se vogliamo al reset dei valori morali però si torna anche a un mondo governato dalla causalità che non è necessariamente desiderabile è puro ma è anche estremamente selvaggio e crudele se vogliamo non è perfido ma è crudele d'accordo o feroce si può scegliere la parola quindi è chiaro che dietro a questa lettura che ovviamente è la lettura di Ailis una ragazzina che ne vive di tutti i colori che a un certo punto avrà anche una formazione o meglio si potrebbe quasi dire un download di contenuti perché quando si fonde ad esempio a un bevisa ovviamente ne acquisisce anche le conoscenze però è comunque una campagnola che molto ha sofferto che ha perso amici e amanti e che è arrivata a un livello di quasi onnipotenza si rende conto di non avere buone risposte al problema del male il che non ci deve sorprendere perché insomma anche nella nostra mitologia in quella in cui siamo più calati e formati quella cristiana sappiamo bene che il dio dei cristiani si era dovuta inventare molto strana per venire a capo del problema del male ha dovuto auto incarnarsi in un tizio e poi lasciare che venisse ucciso insomma c'è un nel mito cristico c'è un ribaltamento è come una una chiocciola d'accordo di pensiero divino anche un po' perversa se vogliamo che appunto viene da questa impossibilità di redimere il male il male compiuto se non attraverso l'assorbimento del male c'è una lettura interessante del mito cristico da parte di Yogananda che dice il vostro Gesù non ha fatto altro che prendere su di sé tutto il karma del mondo molto bello più bello del peccato originale che il peccato originale sa un po' di mito agganciato ad un altro mito invece il Cristo che morendo in croce si prende il karma altrui è si potrebbe dire teologicamente teologicamente perfetto però chiaramente Eilis è figlia del suo tempo che è un tempo non cioè proto-medievale ma non cristiano perché arriva da altri miti e quindi fa per lei questo ritorno alla natura se vogliamo è l'unica vera soluzione disponibile per me è stato un modo per riflettere su alcuni problemi assumendo un punto di vista un po' più più semplice continuo a interessarmi molto anzi proprio il libro che sto scrivendo parlerà proprio del sacro se vogliamo e insomma c'è bisogno e lo dica io che il problema del sacro si lega al problema del male a nodo doppio se vogliamo perché poi è lì che molte cose si annitano tant'è che ad esempio nel dibattito filosofico occidentale quasi sempre il problema del male è arrivato addirittura semplicemente a snaturarsi a diventare una problematizzazione dell'esistenza o no di Dio cioè tendenzialmente si è trasformato in un altro tipo di problema quindi l'esistenza del male chiamava in causa la possibilità o meno dell'esistenza di un Dio quando in realtà inizialmente veniva affrontato in tutt'altro modo ad esempio il bene come conoscenza questa era un'idea greca che poi un po' si è perduta per la strada o ancora meglio il bene come consapevolezza idea indiana Grecia eccessiva come tu mi hai insegnato e ho felicemente riportato nei fratelli Michelangelo erano quella Grecia eccessiva erano andati addirittura addirittura oltre quindi sicuramente tutto questo c'è io non credo nelle in nessun caso a una letteratura programmaticamente politica cerco proprio di di staccarmi completamente da qualunque intento didattico didascalico o di affermazione di questa o quella idea o peggio che mai ideologia dalle ideologie spero di essere abbastanza libero per conto mio però il rischio c'è sempre comunque tutti noi abbiamo un'idea di cosa è bene male giusto ingiusto specialmente nelle cose spicciole no e no io cerco proprio di evitarlo poi è chiaro che faccio anche libri schierati come ad esempio Burro di Casse o La Stanza Profonda perché ovviamente l'intento di quei libri è storicizzare i giochi di ruolo o i rave come fenomeno culturale importante che invece è stato ingiustamente denigrato quindi lì c'è un posizionamento che però spero non sia ideologico spero si basi sui fatti e men che meno nel fantastico io davvero li lascio andare io non avevo idea assolutamente di dove sarebbe andata a parare terra ignota aspetta che prendo un vero numero tutelare iniziale di terra ignota che non è certo Simone Weil ma costumi e cioè io avevo voglia avevo voglia di giocare interregnato una cosa che ha sconcertato alcuni mi ricordo un commento dell'amico sempre acuto commentatore ma poco abituato a masticare queste cose di Dimitri Chimenti che disse ah ma questi omini sembrano omini di un gioco a 8 bit ma perché sono così cosa fanno era sconcertato la risposta sta qui perché volevo fare degli omini che fossero anche un po' Dragon Ball nel senso che in senso ampio Dragon Ball o Naruto se vogliamo One Piece cioè trattare il fantastico oggi un fantastico che fosse appunto anche intrattenimento perché è verissimo quello che dici in cui si parte dall'edonismo poi si arriva alla dimensione intellettuale che è se vogliamo la meta letterarietà il collocamento dell'opera all'interno di un canone e poi auspicabilmente si arriva anche a qualcosa che li trascende però il mio interesse era innanzitutto il primo perché credo tuttora che un fantasy deve essere divertente per chi lo scrive e per chi lo legge questo è fondamentale e non vuol dire che il fantasy sia privo di contenuti anzi è da questo da questo afflato da questa delizia da questa pulcherrima avventura che poi si può trarre qualcos'altro e quindi certo come diceva Chesterton divertente non è l'opposto di serio è l'opposto di non divertente esattamente e quindi sono partito addirittura da delle suggestioni un po' manga un po' manga di azione d'accordo e Eilis all'inizio è anche tonta proprio come il Goku bambino tonta ignorante e campagnola proprio perché mi divertivano molto semplicemente quindi sono partito da lì da immagini pure la prima immagine in cui fanno una sorta di calcio fiorentino gioco del pozzo immaginavo molto bene questi cavalieri immaginavo molto bene anche il fatto che subito quello che sembrava il suo Ron venisse eliminato perché ci sono ovviamente tanti archetipi e stereotipi nel fantasy e cliché uno può essere quello del trio inizialmente sembra e Terragnota gioca un po' con Harry Potter nel presentare un trio con Aelis e Bevisa e Ebreu che invece viene dal Breus e che possono sembrare un Harry Hermione e Ron in realtà le cose vanno in modo molto diverso perché il potenziale Ron viene eliminato praticamente a inizio libro poi lo ritroviamo dopo trasformato in un mostruoso cavaliere zombie che Aelis personalmente farà a pezzi e invece quella che poteva essere la Hermione invece diventa di fatto lo specchio della protagonista e poi anche l'antagonista principale diventa un personaggio il villain della serie con tutte le riserve del caso quindi all'inizio io volevo giocare volevo giocare a far fare a dei personaggi cose che mi divertivano e dall'altro lato a accompagnare e poi ribaltare in vari modi tutti gli stereotipi del del fantastico se poi siamo arrivati un po' anche a qualche riflessione sul sacro tanto meglio però era sono contento che sia uscita involontariamente perché a me non piace la letteratura programmatica certo perché ora l'ultima frase ti ho perso ma penso di sì spero che il palantir funzioni ancora mi pare credo che tutto sia stato registrato sì bene bene i servizi dell'oscuro signore sono sempre buoni tra l'altro io sono molto d'accordo poi è stato un grosso enorme bisogna distinguere secondo me cito una cosa anche questa storica cioè la grande letteratura paradossalmente non è un'allegoria del proprio tempo ma toccando delle dimensioni di verità perenni paradossalmente è semmai il caso contrario realtà che si adegua è una cosa che disse Lewis quando difendendo Tolkien diceva guardate che non è Tolkien che ha scritto l'anello basandosi sulla bomba atomica è la realtà che c'è una famosa battuta se voi guardate c'è una vecchia intervista di Tolkien in cui gli chiedono se si era ispirato a Stalin o Hitler per Sauron e Tolkien gli scappa quasi una risatina dicendo ma insomma i nostri problemi con l'oscuro signore risalgono a qualche tempo prima che a Sauron o a Hitler e questo ovviamente nell'orizzonte di senso che Tolkien dava alla realtà in realtà l'elemento importante io già accennavo prima è che la narrativa fa proprio perché proprio per l'orizzonte che assume spesso si rivela in grado di abbracciare il reale e attraversarlo con una profondità particolare ti hai citato prima la Rowling e Harry Potter basti pensare che cosa è stato cosa sono stati quei sette libri per raccontare veramente due generazioni di ragazzi contemporanei e il tema dell'orfanità anche in questo caso in maniera non programmatica ma mi viene da dire inerente alla forza del testo stesso ma proprio Vincenzo Marasco che è uno delle firme di tutti i mondi possibili una volta in un dibattito al festival di letteratura sociale della polveriera appunto disse con la sintesi che il fantastico è politico di per sé perché l'immaginazione è di per sé un atto politico si è scomparso? no sono qua io eh c'è un rolanda si 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 no guarda io prendo questo spunto per andare mi sa verso la conclusione con i tempi e penso che ci sarebbe un gran bisogno di un lavoro di immaginare nuovi mondi io l'ho scritto in qualche pezzo eh che ho fatto recentemente su varie distopie che mi hanno tutte più o meno annoiato anche quelle eh più buone qualitativamente ovviamente dato che in questo momento la distopia va molto ne escono tante alcune sono anche molto interessanti specialmente Safarà o Carbonio Editore hanno pubblicato cose di nuovi autrici per lo più eh molto molto buone e tuttavia è un genere che appunto forse ci stanca perché nella distopia ci siamo già invece eh l'utopia che è anche interessante il fatto che la distopia si imparenta automaticamente con la fantascienza e l'utopia si imparenta automaticamente con il fantastico questo è qualcosa che forse dovrebbe darci eh dovrebbe darci da pensare e immaginare nuovi mondi possibile in questo momento è eh altamente altamente necessario così come eh è necessario un lavoro mitopoietico d'accordo perché in questo momento eh possiamo dire l'immaginazione politica è molto stanca proprio a causa di una scarsità di miti spendibili quindi è l'ora di eh provare a inventarne altri a inventarne altri se lo faranno gli scrittori fantasy non lo so sarebbe bello eh staremo a vedere dico certo beh una cosa dico solo aspetta abbasso qua perché non ti sentivo ma ehm che ehm è interessante brevemente parleremo insomma ci sarebbe così tanto che paradossalmente ehm questo tema che accennavamo prima del rapporto fra forma e sostanza ehm che riprendevo da Alderling quindi la la sostanza divina che distrugge la forma umana nei tuoi romanzi hai invece un'opposizione esplicita in un mondo se vuoi di pura forma che sono i cavaliere del cerchio d'acciaio cioè mh interessante perché nella tua normale eh un'opposizione ai al cammino dei protagonisti è spesso più un clima che degli antagonisti veri e pochi no? Nella stanza profonda qualcuno chiama la polizia alla fine ma chi è questo qualcuno? tutti e nessuno in qualche modo ci sono dei momenti nei quali si guada no? il fango di di della non so come dire della falsità nella quale siamo facilmente immersi penso alla scena dell'incontro con la televisione quando devono andare a parlare no? della morte di quel ragazzo quindi ci sono dei mondi ehm ci sono dei mondi negativi che vengono raccontati all'interesse della tua produzione però non ci sono degli oppositi nel caso del cerchio d'acciaio ti hai fatto un'operazione interessante perché non hai raccontato degli oschi signori ma hai voluto trattare paradossalmente i personaggi più autoconsapevoli non so come dire sono dei personaggi consapevoli di vivere un'esperienza fantasy perché sono dei cavaliere di una cera ragionano in termini non so come dire di cavaliere di Thomas Mallory nei quali però al tempo stesso hai come anche voluto raccontare tutta una certa mitologia elitaria si potrebbe chiamare la sindrome di Mishima o la sindrome di Denethor o una certa autonarrazione di tutto quel mondo della destra dei compagni che non hanno tradito the last stand di Beowulf col drago qui è un mo che si mummifica in un'auto in una forma e quindi diventa appunto pura forma contrapposta alla sostanza divina è esattamente questo anzi grazie perché non avrei potuto dirlo meglio e c'è una scena che infatti a me piace molto in Terregnota 2 in cui a un certo punto i cavalieri del cerchio d'acciaio non possono fare altro che attaccare le figlie del rito e vengono fatte a pezzi d'accordo e fanno questa vera e propria gotterdammerung vanno incontro alla morte però non è che per questo diventano buoni restano appunto dei cavalieri dei cavalieri zombie e volevo anche giocare con questo appunto distruggerlo questo mito dei cattivi che sarebbero buoni semplicemente perché non hanno tradito il nero signore ma disertate oppure allora vi facciamo a pezzi tranquilli bene bene beh secondo me noi siamo stati gloriosamente lunghi ovviamente ci sarebbe altro però credo insomma possiamo tutto quello che si conclude parlando dei cattivi per me va bene quindi ok grazie edo grazie a De Camerette grazie a chi ci ha ascoltato è stato molto bello grazie tante e buon sabato a tutti grazie grazie Vanni ciao grazie a tutti grazie a tutti